un po' di traffico sull'assietta guardate che panorama che giornata meravigliosa con la tiger 1002 rally pro e con la tuareg 660 di mirko siamo sul colle dell'assietta manca poco al picco circa 23 chilometri forse credo mirko 5 chilometri manca 5 chilometri al picco un panorama meraviglioso una strada ben battuta assicuratevi che non abbia piovuto perché sennò trovate pozzanghere e fango e magari può essere più impegnativo con le max enduro così pesanti soprattutto come la tiger però bella bella da percorrere ben battuto panoramica non ci sono protezioni laterali a tratti quindi massima attenzione potenza è un attimo che ti scappa l'anteriore e il gas e ti ritrovi da giù a usso a 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 però bella con un po' di prudenza questa è una delle strade più belle veramente mai percorse e la completiamo e poi vi dico tutte le ultime impressioni e se avete ovviamente domande fatele nei commenti a a a spettacolo eh sì anche questa guardate che che specialistiche che questa qui è uno squarna è una ragazza una signora guardala come va e beh con quel mezzo vai su che è un piacere bella tastellata con la gomma tastellata qua ci vuole eh una bella molto tastellata se no almeno una un 60-40 50-50 si noi con l'80-20 del Pirelli ma però meno male che non ha piovuto non c'è fanghia per terra almeno andiamo bene anche noi dai con prudenza sempre buongiorno amici del canale strada statale 23 delle Sestriere del colle del Sestriere siamo appena usciti dal borgo tornando dalla Francia verso casa che fai non sali a vedere se è aperta l'assietta 건� centrali sattori e sattori sottori sottori pa andiamo a vedere Colle della Sietta o oggi domenica dovrebbe essere aperto se non sbaglio altrimenti prendiamo le finestre scendiamo a Susa e poi imbocchiamo l'autostrada per Milano questa strada che da Seistrier viene verso Pinerolo o viceversa è meravigliosa veramente bella ragazzi asfalto nuovo larga bellissima l'abbiamo fatta tempo fa cos'era un mesetto fa che abbiamo fatto il Colle delle Finestre tutto sterrato ben battuto è una meraviglia di colle di passo alpino tutte ex strade militari oggi turistiche e adventure molto adventure il panorama è eccezionale oggi è anche una bella giornata c'è qualche nuvola che copre ogni tanto il sole ma rinfresca anche un attimo perché abbiamo 28 gradi e siamo a Seistrier quindi mille credo che se strassi alta è più di mille sicuramente ma saliremo ancora di più andiamo a vedere queste sterrate piemontesi da brivido grazie a tutti siamo quasi ad Usso questo è il bacino d'acqua regolato dalla diga bellissima cittadina Usso veramente un bijou da qui si sale e si prende l'assietta Paurieres precisamente è la frazione di Usso abbiamo fatto un video anche al forte delle fenestrelle bellissimo il video si chiama colle delle finestre in occasione appunto della visita alla strada sterrata unonima adesso però vorrei fare l'assietta vediamo vi faccio vedere da dove si sale questo è l'incrocio mettiamo la freccia pian dell'alpe parco orsiera rocciavrè saliamo laggiù intravedo il forte fenestrelle meraviglioso vi lascio un estratto del video una dronata meravigliosa ovviamente era nuvoloso come vi dicevo invece oggi ragazzi c'è una profondità di panorama incredibile con questi fiori questi colori bello veramente guardate che alpe che c'è qua davanti molto trafficata guardate che spettacolo della natura che è questa piana ai piedi di quest'alpe imponente meraviglia e proprio dopo appena dopo questa piana c'è l'imbocco per la strada della sietta vediamo se è aperta il colle della sietta eccolo qua si è aperta andiamo allora aspetta che mi fermo e metto la mappa offroad perché la tiger può mettere la offroad solo da ferma offroad eccola qua ok un po' di ghiaione qua però bella ben battuta qua sotto l'imbocco bello ecco ci sono delle jeep che bisogna far passare vediamo strada della sietta se non sbaglio è 7-8 km anche questa quindi vediamo come si sviluppa cioè è veramente facile è una strada bianca anche per il mio livello che ripeto è molto amatoriale non ho nessun corso alle spalle ho qualche base teorica mi guardo diversi tutorial diversi video però poi la pratica fa la differenza madonna ragazzi che burrone qua a fianco mantenere sempre l'ossigeno respirare perché ci si stanca questa farla tutta in piedi ragazzi è faticoso ci si stanca tanto idratarsi bere acqua andare piano perché qua se ti scappa l'acceleratore qua lanci la moto e ti devi aggrappare a qualcosa fai un bel salto quindi veramente non c'è da scherzare guardate qua quando incrociamo le persone rallentiamo mi siedo un po' vediamo com'è a farlo da seduti eh si sente un po' purtroppo lo sballottio però Tiger 1002 è una prima lunghissima io tengo sempre la prima perché le faccio veramente piano la pietraia a tratti è importante e poi ci sono alcuni dislivelli come questo ma che passaggi ragazzi che passaggi incredibili che vista vediamo se mi metto di qua meglio però se arriva uno lanciato aspetta non è sicuro meglio in piedi molto meglio in piedi io mi trovo meglio ragazzi l'unico problema è che ci si stanca tanto ma in piedi hai un controllo molto se capisci un po' la teoria gambe strette punte delle dei piedi chiusi sul freno dietro braccia larghe culo un po' all'indietro per non aggrapparsi al manubrio stare morbidi gas costante che panorama meraviglioso sale sale ancora credo che poi arriveremo in cresta dove ci sarà anche uno show memorabile provato a mettere una seconda vediamo se me la sento di aumentare un po' il ritmo si dai ragazzi è facile fino a qua tutto bene vediamo se c'è Mirko non lo vedo più lo aspettiamo un attimo intanto mi riposo ma ecco l'arrivo wow allora rispetto al colle delle finestre è più terra con sasso mentre di là è tutto ghiaione più battuto ecco secondo me il colle delle finestre è addirittura più più facile è messo meglio diciamo ci sono dei tornanti ma per correrlo da Sestrera a Susa i primi 5-6 tornanti sono belli tosti belli chiusi stretti quindi ti mette con un po' di pendenza ti mette un po' di saggio poi però è ben battuto ma anche madonna ragazzi intanto cosa si è aperto qua mamma mia ma è altissimo madonna mia ti viene il cuore in gola qua ma che bella è madonna ragazzi è bellissimo giù non so se in video si vede è bellissimo madonna mia che panorama non mi ricordo manco più cosa stavo dicendo il paragone forse con la finestra si comunque ben battuta anche qua adesso per esempio è proprio una tavola è proprio una strada bianca non c'è sasso non c'è solo terra primo tratto invece c'era un po' di sasso smosso ok pick up superato ci ha fatto passare gentilmente ha messo la freccia e siamo di nuovo in costa guardate che vista madonna ragazzi è bellissimo è bellissima ho appoggiato la seconda se tengo un po' l'andatura allegra non dovrebbe spegnersi problema della Tiger tre cilindri che ha le marce molto più lunghe la prima è lunga quindi in seconda qua se è a 50 60 all'ora minimo quanto siamo vediamone a 35 35 qua bisogna puntare la prima non mi fido ok wow ragazzi il jeep in arrivo ci fa passare si accosta e qui un po' il 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 qua c'è un po di buche più che altro ho paura di beccare un sasso o una buca con il cerchio e piegarlo quindi rallentiamo un po ci sono anche le jeep ragazzi è uno show ragazzi è un bel bestione il 1200 Tiger pesa pesa si sente diciamo che il suo affanno è un po il peso però se la cava dai con queste strade qua finché così va su bene mi piacerebbe tanto poter fare anche il sommelier però ho visto che ci sono dei tornanti con sasso smosso importante quindi ci vorrebbe una moto più leggera dove hai un buon appoggio con entrambi i piedi e una gomma un po più aggressiva mi organizzerò magari più avanti nei prossimi tempi tanto guardate che show qua ragazzi è quasi la cresta questo punto di roccia che vedevamo da sotto è incredibilmente scenografico bello 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 è 10 chilometri mi diceva Mirko sono 10 chilometri in totale quindi è abbastanza lunga la parte è serrata è un buon appoggio Oh, 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 oh Quello delle finestre sono 8 nella parte serrata Questo è il più impegnativo, secondo me Leggermente più sasso smosso Insomma più tecnico, un po' più tecnico Però ecco, abbordabile ragazzi Se se lo faccio io, che proprio sono alle prime armi Non ho proprio esperienza A livello di pratica Ne ho un po' in di teoria E poi ho una moto pesantissima Cioè io sono un metro e 75 Su una Tiger Rally Pro Quindi capite che anche come appoggio Qua se becco qualche sasso io sono per terra Non è che metto giù la gamba Anzi, mi tuffo proprio Guardate che show Mamma mia Che bello È bellissimo ragazzi Colle della Sietta Impressionante Il panorama è incredibile Ci si stanca ecco Dopo che abbiamo fatto tantissimi chilometri in Francia Oggi Ripeto, dalle 8 di mattina Che siamo in moto Sono le 5 Si inizia a sentire la fatica Che però viene ripagata da questo panorama Incredibile Guardate qui È proprio Adventure Vediamo se ci vede Questa Jeep davanti Se ci fa passare Si, ci ha visto Grazie Qua c'è Un fossatino Ok Che fiori Guardate che fiori qua a destra Sulla roccia Allora Margheria della Sietta Qua c'è tanto tanto sasso Si affonda un po' Qua è meglio star seduti Secondo me Vari centro più basso Si, c'è tanto tanto sasso Si affonda un po' Penso che quello lì in fondo Lì sia il picco Sempre piede sul freno dietro E qua è una bella sassaiola ragazzi Bella sassaiola Qua ci vuole gas costante Non irrigidirsi Questa è la teoria che so io Voi se sapete qualche cosa di tecnico Scrivetecelo nei commenti Così chi guarda questi video Può discuterne Possiamo darci dei consigli Magari qualcuno più esperto in offroad Io ho sempre visto che Sasso profondo Sasso smosso Bisogna Tenere gas costante Leggero Pello di gas E braccia Abbastanza morbida Secondare un po' Il manubrio Perché Deve fare quei movimenti Irregolari Per trovare il grip necessario A tenere la moto dritta Ovviamente Con un pelo in più di velocità Meglio Secondo me è un pelo Non è che si devono Raggiungere velocità folli Io sto andando a 30 Quindi Va benissimo direi Potrei tentare un 40 Però ragazzi Dopo Magari Mi viene Il panico Si chiude l'anteriore Un attimo Quindi A 30 Si arriva lo stesso Ci si gode Il tutto ugualmente Che bello Con 2B Guardate qua Colle della Sietta Conquistato Sono contento Sono contento Vediamo quanto è alto E vediamo il panorama 2472 Wow E questo è il panorama E questo è il panorama E questo è il panorama Mirko mi suona Non capisco Se è perché è felice O Com'è Mirko? Si si Lo vedo allo specchietto Tranquillo Opla Ok qua torna Il sasso smosso Madonna ragazzi Che vista Sono stanco Figa Tarot Che bello Ragazzi Che meraviglia Però ragazzi Le sospensioni Anteriori La forca Della Tiger Sono eccellenti Le Showa 22 cm Di escursione Ma È una buonissima Sospensione È il monodietro È il monodietro Che è un po' Peggio Ovviamente Tutto regolabile Elettonico Però come qualità Molla Come qualità Forca La Showa Che monta La Tiger È buona Guardate Che show Madonna Ragazzi C'è qua Siamo proprio In posti Fantastici Allora Qua c'è un tornante Madonna Che sassi Un cagnolino Madonna Che bello Ti distrugge Ti distrugge Avremmo fatto 4-5 km Già Minchia Sono Sono spaccato Ho le braccia Che non me le sento più È anche l'età È anche l'età Madonna Ragazzi Che panorama Che c'è Non mi devo distrarre Perché qua c'è un po' di Sasso grosso Smosso E piantato E se arrivasse una macchina di qua È brutta Madonna Mi siedo un attimo Ragazzi Sono stravolto Secondo me conviene fare una piccola pausa Magari una bella dronata E poi riprendere La via La via Che ne pensate A questo tornante qui Magari Se c'è spazio Sì Perfetto Olè Così si raffredda anche un po' la moto Facciamo una pausa Ho le braccia rotte Figa Signori Con questa pausa Chiudo Questa prima parte di video Perché esploreremo Tutta la strada Fino a Sestriar Ci sono Cinque o sei vette Del quale non ricordo nemmeno il nome Che però Nei prossimi video Vi farò Assaporare Vedere Vedremo insieme Tutta questa zona Questa meravigliosa strada Della Sietta Che A percorrerla in modo completo È più lunga Di 40 km Adesso Ne avremo completati Circa una decina Ma Siamo neanche All'inizio Quindi Iscrivetevi al canale Per non perdere Le prossime avventure Lasciate un like Se questo video vi è piaciuto Vi ringrazio A presto Ciao E come Penso che sia come Il collo della fauniera Quanta era la fauniera Mirko La fauniera Quanto era alto La fauniera Quanto era alto Un po' di più Andiamo Proseguiamo Io non so dove porti Dove si scenda Però vedo arrivare gente Di qua Quindi Proviamo a proseguire Non sono pratico Di questa strada Vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti.